Buongiorno a tutti, oggi è martedì 21 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su due mercati, su DAX e Fuzzimib. Cosa ci vuole per creare una shooting star su una candela giornaliera? Ci torneremo forse più avanti. Intanto facciamo i primi controlli su DAX post apertura. 1. Da qua, a quanto siamo arrivati come salita? A 36 barre, per cui siamo ampiamente oltre le 24 minime di possibile. E vedete che anticipare uno short in overnight non conviene mai molto. Infatti ci saremmo presi dalla chiusura all'apertura un po' di punti contro, senza poter peraltro valutare dove mettere uno swing, o almeno potendolo fare ma in maniera differente rispetto a quanto agiamo solitamente e con considerazioni differenti. Per quanto riguarda, eccolo qua, il nostro DAX a candele giornaliere, sapete sempre che manca l'ultima che stiamo facendo in questo momento, siamo peraltro arrivati a una lunghezza anche qui di 30 barre su minimo 24, quindi siamo oltre la durata minima e vicinissime alla durata media. Però bisogna considerare il fatto che oggi, essendo già arrivati a 11 barre di terzo T inverso, si può scendere bene. Ok? Ci può essere una valida possibilità di discesa per far partire qualche cosa di inverso, come vi dicevo precedentemente. Arriviamo al nostro Fuzzimib, anche qui stessa identica cosa, e stessa domanda, che cosa ci vuole per creare una shooting star? In questo caso, qui abbiamo un'apertura a rialzo, anche in questo caso andiamo a misurare la durata ciclica e arriviamo a 36 barre su massimo 44, ma siamo già oltre la durata minima. Qui possiamo togliere il nostro punto di domanda perché non parte nulla da qua, e vediamo anche l'indice a che punto siamo. Qui può essere partito, allora qui siamo a 21, troppo corto, qui siamo a 26, eventualmente da qui può essere partito un ottavo T-3, oppure possiamo essere tranquillamente ancora in chiesura di settimo T-3. D'accordo? Per cui anche in questo caso va misurato il tempo ciclico. Di inverso abbiamo spazio, di indice abbiamo spazio, ora bisogna vedere se si inizia a scendere, anche in questo caso, per la chiusura di che cosa? Per la chiusura anche, in questo caso è con la candela che stiamo andando a fare in formazione, di un T-2 mensile, primo T-2 mensile del T-3 inverso, entrambi inversi, dopo essere andati a toccare la media mobile a 200 periodi. Quindi c'è anche una ragione di analisi tecnica nell'analisi ciclica per la quale si può iniziare a scendere. Siamo arrivati a una resistenza effettivamente interessante. E anche in questo caso vi faccio notare che qui siamo arrivati a 11 giorni da massimo a massimo. Quindi è importante, anche in questo caso, controllare che sia tutto corretto e che si inizia a scendere, o per far partire un quarto T-inverso, oppure per far partire qualche cosa di più grosso. E, al contempo, per andare a chiudere il secondo, anzi, per andare a chiudere il primo T settimanale del secondo T più 1 bisettimanale. In questo caso, se ci sarà più spinta verso il basso, avremo che siamo già arrivati alla bellezza comunque di 27 barre giornaliere per il primo T più 2 mensile che compone il secondo T più 3 trimestrale partito da questo minimo del 15 di giugno. Direi che dovremmo essere abbastanza tutto. Qui possono continuare a fare le finte che vogliono perché hanno lo spazio e ancora il tempo, soprattutto ciclico, per eventualmente provare ad andare a su. Può essere una bella bull trap, dovremmo sfruttarla, come sappiamo, con il nostro metodo. Per cui, oggi può diventare una splendida giornata. Io mi sono già preparato perché per me sarà sicuramente una splendida giornata perché ho deciso così. Per cui, voi che cosa volete fare? Spettatori, caldo da parati oppure giocatori? Buona giornata a tutti!